vediamo adesso come compilare la domanda proprio di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado questo video chiaramente fa seguito al primo video dove abbiamo indicato come arrivare alle domande disponibili ecco clicchiamo proprio su inserisci trasferimento per la scuola di secondo grado andando su inserisci arriviamo proprio alla domanda dove ci sono le sezioni da compilare vediamo appunto che l'anno scolastico di riferimento del trasferimento il 2023 2024 per la scuola secondaria di secondo grado alla scendendo più in basso notiamo che abbiamo proprio la sezione della compilazione della domanda e dunque abbiamo la possibilità dell'anzianità del servizio come prima sezione delle esigenze di famiglia come seconda sezione titoli generali terza sezione le pre eventuali precedenze e quarta sezione la scelta del tipo di posto che già vi annunciamo essere obbligatoria per poter così salvare la domanda i requisiti e eventualmente da inserire le preferenze che almeno una preferenza deve essere inserita perché la domanda possa essere così inoltrata e poi infine l'indicazione degli allegati da inserire incominciamo con l'anzianità del servizio dunque andando ad aprire questa sezione ecco troviamo queste caselle importantissime allora la casella numero di 1 è riferita in buona sostanza al numero di anni di ruolo prestati nell'ordine di scuola di riferimento cioè il numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo nel ruolo di appartenenza in questo caso sarà un ruolo per la scuola secondaria ma di secondo grado ecco nel mio caso siccome sono 16 gli anni di ruolo prestati nel secondo grado andrò a inserire questi 16 anni chiaramente in questo questa sezione non si inserisce l'anno in corso cioè il 2022 2023 non deve essere conteggiato devono essere conteggiati solamente gli anni e dal in missione in ruolo per il ruolo di appartenenza fino all'anno scolastico precedente e non quello in corso poi abbiamo nella casella numero 2 abbiamo la possibilità di inserire il numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza per cui si può inserire qui altro ruolo prestato diciamo nel nella secondaria di primo grado nella secondaria di primo grado per chi è titolare nella secondaria di secondo deve inserire se ha fatto degli anni in questo nella secondaria di primo grado altrimenti se non li ha fatti può lasciare in bianco o mettere zero proseguendo c'è la retroattività giuridica la possibilità di inserire la retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio se non ce ne sono anche qui andremo a mettere lo zero ecco scendendo sotto qua nella casella numero 3 c'è il servizio per il ruolo a cui nel caso ci sia del servizio nella scuola primaria o dell'infanzia per chi è titolare al secondo grado va inserito in questa casella sia il servizio qualsiasi tipo di servizio per ruolo più eventualmente altro ruolo ma di primaria e infanzia nel caso specifico 13 anni di pre ruolo si inserisce la in questa casella tutto il pre ruolo svolto più eventualmente come dicevamo prima il ruolo prestato in primaria e infanzia qui nella casella numero 4 si parla della continuità del del servizio prestato nella stessa scuola di titolarità nel caso specifico mio sono dieci anni di diciamo di continuativo servizio nella scuola di attuale titolarità e si mette 10 dopodiché la casella 5 è riservata esclusivamente per i posti di sostegno dunque chi effettivamente non chiede una tipologia di posto di sostegno è del tutto inutile inserire se il posto è comune ciò che si richiede queste caselle si possono lasciare tranquillamente in bianco poi c'è il punteggio eventualmente aggiuntivo di dieci punti per coloro che dall'anno 2000 2001 fino all'anno 2007 2008 anno diciamo non presentato domanda di mobilità per un triennio e dunque hanno acquisito una bonus una tanto di dieci punti che comunque non devono aver diciamo utilizzato per poter avere questo bonus in questo caso qui si inserisce sì oppure no se no si lascia come spuntato io per esempio non ho punteggio aggiuntivo per cui inserisco no poi si passerà alle altre diciamo caselle alle altre sezioni da inserire ma questo lo vedremo in altri video che verranno postati grazie a tutti per l'attenzione ea presto